buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo ancora di rinnovo del triennio delle gps cioè delle gradatorie provinciali per le supprenze domanda numero 1 negli anni scolastici 2020 2021 e 2021 2022 ho insegnato senza titolo di specializzazione su posto sostegno scuola secondaria di secondo grado quanti punti aggiornerò nelle prossime gps qualora si dovesse ragionare le gps per il triennio 2022 2025 come annunciato dal ministero dell'istruzione si potrà aggiornare 24 punti 12 per ogni anno scolastico con almeno 166 giorni di servizio o un intero secondo quali messe a partire dal primo di febbraio fino alla fine delle lezioni scrutini compresi nelle gps di sostegno il di seconda fascia ad ss se si hanno almeno tre anni di servizio su sostegno alla scuola secondaria di secondo grado e questi 24 punti potranno essere aggiornati su tutte le gps delle classi concorso della scuola secondaria di secondo grado per cui l'aspirante ha titolo domanda numero 2 nelle prossime domande gps l'aspirante supprente con quali titoli di accesso potrà inserire le varie classi di concorso allora diciamo che l'aspirante che vuole fare il nuovo inserimento in seconda fascia gps potrà entrarci con il titolo di accesso della laurea contenente le indicazioni e i crediti previsti dal dpr 19 del 2016 e sue successive modifiche più i 24 cfa in discipline psicopedagogiche e metodologiche didattiche previste dal decreto ministeriale numero 616 del 2017 non ci dovrebbe essere necessità dei 24 cfu anche per entrare in gps prima fascia per coloro che hanno l'abilitazione all'insegnamento per una qualunque altra classe di concorso l'aspirante che vuole entrare in prima fascia gps invece ci entrerà con il titolo di accesso dell'abilitazione all'insegnamento per quella classe di concorso domanda numero 3 con l'aggiornamento delle gps si aggiorneranno anche le gradatorie d'istituto quante scuole possibile scegliere allora l'aspirante può presentare domanda per l'inserimento anche nelle gradatorie d'istituto contestualmente alla domanda di inclusione le gps indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento del nel gps per ciascun posto comune per ciascuna classe di concorso o posto di sostegno per cui a titolo si specifica che chi è già inserito in gradatoria a esaurimento nella gae potrà inserirsi nelle gps anche per altra provincia speriamo che queste risposte siano utili ai nostri lettori seguiti ancora su questi temi parleremo tantissimo nel nostro sito www.tecna scuola.it e nei nostri social sia di facebook che di youtube arrivederci www.tecna scuola.it www.tecna scuola.it